Una vera e propria stangata sul comune di Pescara, una sentenza della Corte Costituzionale costringe infatti l'amministrazione a rimborsare il mutuo acceso nel 2015 con lo Stato di circa 33 milioni di euro in 10 anni e non più in 30, come pattuito inizialmente. Come se un dipendente statale acquista una casa attraverso un mutuo a 30 anni, ma la banca, dopo SET, gli intima di pagare non più a 30 ma a 10 anni, chiedendo tra l'altro gli arretrati del piano di ammortamento appunto a 10 anni. Situazione senza dubbio impraticabile. Così l'assessore alle finanze del comune di Pescara, Eugenio Seccia. Assessore, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, una doccia potremmo dire gelata, triplicate le rate annuali, adesso come si fa? Ovviamente è un problema enorme perché dovremmo in qualche modo restituire 12 milioni e 800 mila euro arrotondati di rate scadute che ovviamente facciamo parte di un piano di rientro vecchio che la Corte Costituzionale dice che non è più valido. Sono 21 comuni in Italia che hanno questo problema. Napoli l'aveva, è stato fatto un decreto ad hoc che ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni di euro per far uscire Napoli da questo problema. Ci aspettiamo che la stessa cosa possa avvenire per Pescara. Gli arretrati ammontano a quasi 13 milioni di euro se non ho capito male. Sì, sono 13 milioni di euro perché ovviamente si sommano per tre quelle che sono state il delta tra la rata a 30 anni e la rata a 10 anni. Quindi questa differenza deve essere pagata entro il 30 aprile. Questo prestito di 33 milioni risale al 2015. Qual è la soluzione? La soluzione è semplicemente che il governo permetta attraverso un prestito ponte perché noi vogliamo restituirlo. Abbiamo fatto i conti e sono governati bene per quelle che sono le nostre competenze in 30 anni. Se con un prestito ponte il governo ci mette in condizione di rispalmare temporalmente queste disponibilità di 26 milioni di euro restanti rispetto al pagamento ovviamente facciamo fronte tranquillamente e il comune di Pescara ha tolto questa situazione e il resto delle situazioni è in grado di farlo. Ma oggettivamente questa è una situazione talmente grande che necessita, come dicevo prima, di un intervento di rango superiore. Grazie.